Prima sconfitta stagionale per il San Nicolò, che cede il passo 2-1 al Matelica nel big match della terza giornata di campionato e con una rimonta che non riesce ai padroni di casa. Epifani cambia ancora l'undici iniziale, ricalcando quello dell'esordio in campionato contro la Fermana, ma inserisce dal primo minuto Stivaletta. Dall'altra parte Clementi deve rinunciare allo squalificato Dorazio e cambia formazione rispetto alla gara contro la Jesina per adeguarsi alla regola degli under. Pronti via e il San Nicolò ci prova subito con testi, anticipato però sul più bello. Chi passa subito alle vie di fatto è il Matelica. Da calcio di punizione molto distante dalla porta, Esposito vede il movimento di Pera. Qualcosa non funziona come dovrebbe nella difesa del San Nicolò e l'attaccante ex Poggi Bonzi può siglare la quinta rete stagionale. La risposta dei Biancazzurri arriva subito. Bisegna serve in mezzo per Napolano, ma Marco Antonini ci mette una pezza decisiva. Poco dopo ci prova proprio Bisegna, servito da Chiacchierelli, senza fortuna. In mezzo c'è Esposito, che prova a fare tutto da solo, ma il suo tiro finisce alto sulla traversa. Il San Nicolò trova qualche problema di troppo a centrocampo, spesso e volentieri non riesce ad uscire e l'unica occasione prima di tornare negli spogliatoi sarà quella che capita tra i piedi di Napolano. Il giocatore Biancazzurra, tu per tu con l'estremo ospite, si fa parare la conclusione, ma il direttore di gara ravvisa in ogni caso una posizione di fuorigioco. Il San Nicolò parte bene nella ripresa, ma manca qualcosa negli ultimi metri per trovare la via del gol. Via che invece riesce a trovare Esposito da un molto contestato calcio di punizione. La traiettoria disegnata dall'ex Pescara ipnotizza Recchiuti e si infila sotto il 7 per il raddoppio del Matelica. Moretti prova a suonare la carica subito dopo irrovesciata, ma il pallone finisce alto. Ci pensa Traini, entrato al posto dei chiacchiarelli, a spingere all'errore Caccione e ridurre così il gap, riportando in gara i padroni di casa. Poco dopo è ancora Moretti, servito da Napolano, a sfiorare il gol. Il tempo però passa e le speranze per il San Nicolò si riducono. Ci prova Napolano nel recupero da calcio di punizione, ma la traiettoria è troppo centrale. Le proteste si fanno vehementi poco dopo, quando Moretti viene atterrato in area. Per il direttore di gara però si prosegue e si chiude così con un veleno tutto nella coda e la terza vittoria stagionale per il Matelica. Mister, terza vittoria stagionale per il Matelica che ha avuto oggi il merito di concretizzare le occasioni avute. Sì, diciamo che è stata una partita sicuramente molto equilibrata. Meglio magari noi nella gestione della palla nel primo tempo, dove abbiamo capitalizzato anche su un calcio piazzato. Abbiamo gestito molto bene secondo me la partita nel primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo subito molto la forza del San Nicolò ed è venuto fuori il San Nicolò che noi ci aspettavamo, perché comunque è una squadra che gioca un grande calcio e quando tutti gli interpreti lo fanno bene ti mette in grande difficoltà. Io credo che siamo stati non bravissimi nel secondo tempo, non siamo più stati in grado di gestire la palla come abbiamo fatto nel primo tempo, forse anche molto per merito degli avversari, però abbiamo tirato fuori delle qualità anche su alcuni giocatori che magari li riconosciamo di meno, quindi anche il sacrificio grosso delle punte nel ripiegare. Ci siamo difesi. Le chiede il suo parere sull'episodio di Moretti proprio nel finale, molto contestato. Allora, onestamente, dalla panchina a me sembrava rigore. I giocatori mi hanno assicurato tutti quanti che non era così, però io dalla panchina l'avrei fischiato il rigore. Mister, partirei dalle parole di Clementi, che ha detto che lui quel rigore dalla panchina l'avrebbe fischiato. Dalla parte mia ti dico che è clamoroso, e oggi è stato clamoroso, clamoroso. Io non ho mai visto una cosa del genere in un campo di calcio. Un giocatore che sposta la palla, si sente il rumore del contrasto, proprio un'entrata clamorosa, anche a punizione. Secondo me un fallo sera fuori aria era a punizione. Però mi dispiace per i ragazzi, perché l'ho visto negli spogliatoi delusi, però dopo una prestazione del genere, perché abbiamo fatto una grande partita, vorrei dire anche sulla prima punizione, perché la gamba è tesa e quindi punizione in seconda. Però sorvoliamo su questo, rimane una grande prestazione, la squadra ha fatto quello che doveva fare, abbiamo creato un'occasione di agoli importanti, contro una squadra che dovrebbe ammazzare il campionato. Quindi andiamo a casa con una sconfitta, amareggiati, non avendo datoci qualcosa di grande, perché alla fine quello è qualcosa di grande, magari il rigore poi lo sbagliavamo, però dacci il rigore, lo pareggiamo, e questo è il rammarico più grande. Dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo che siamo sulla strada giusta, perché abbiamo fatto secondo me una grande partita, contro una squadra, credo, più forte del campionato, e dobbiamo partire da questo, dalla prestazione.